gentili telespettatori buona giornata il posto di grillo sul blog suo per mandare via giuseppe conte dice mi sento così scrive sul suo blog come se fossi circondato da persone che hanno bisogno di qualcosa che fa credere a tutti che i problemi sono spariti e che dia l'illusione almeno per qualche mese forse non di più che si è più potenti di quello che in realtà sia davvero pensando che conte sia la persona giusta per questo scrive il fondatore del movimento e poi dice conte può creare l'illusione collettiva e momentanea di aver risolto il problema elettorale ma non è il consenso elettorale il nostro vero problema vanno affrontate le cause per risolvere l'effetto ossia i problemi politici lui dice la mancanza di consenso elettorale è la conseguenza di alcune cose o di tante cose bisogna andare a prendere i problemi alla radice su questo ha ragione parla di problemi sia politici e problemi organizzativi di problemi politici dice idee progetti visione in realtà il movimento 5 stelle ha delle idee no a dei progetti no a una visione no a un'unica sola missione che è quella di conservare il più possibile lo stipendio e come cercare e cercare di capire come continuare a prendere i famosi 13 mila euro netti al mese e poi parla di problemi organizzativi merito competenza valori e rimanere movimento decentralizzato ma efficiente movimento decentralizzato non lo è più merito sono sono arrivati i politici 5 stelle in parlamento per meriti quali meriti avere avuto dei like su facebook o su o su whatsapp competenza ecco i grillini sono l'antitesi sono l'opposto della competenza per volontà del dello stesso grillo dello stesso movimento sono stati presi dei cittadini infatti loro non si vogliono far definire degli onorevoli ma dei cittadini sono state prese delle persone a caso praticamente quasi a caso in giro per l'italia e messe in parlamento ovviamente quando voi prendete delle persone a caso e li mettete in parlamento viene fuori di tutto tra queste persone a caso potrebbero esserci delle persone di un certo spessore di curriculum con conoscenze con esperienze ma potreste trovarvi anche il sempliciotto che trovate al bar che vi dice un sacco di che voi dite mamma mia questa senti cosa sta dicendo no vedi quelli che dicono i luoghi comuni quelli che vedono complotti dappertutto infatti i 5 stelle li abbiamo conosciuti ecco dopo che abbiamo conosciuto i 5 stelle gli italiani hanno detto mai più prendere persone a caso e metterle in parlamento gli italiani hanno rimpianto i vecchi politici quelli sempre vestiti in giacca e cravatta con curriculum con esperienze politiche con esperienze manageriali il professor monti il professor prodi non so craxi spadolini andreotti gianfranco fini sono tutti quei politici che avevano comunque esperienza da vendere da vendere vogliamo paragonare i nomi che vi ho appena detto con i toninelli azzolina bonafede di maio e taverna non so tutti potete nominare fioramonti tutti i 5 stelle nominate di tutti non credo che si forse si salva qualcuno realmente c'è qualcuno che si salva ma il resto sono cittadini presi e messi in politica dicendogli guarda tu fai al massimo due mandati poi torni a fare quello che facevi prima non facevo niente torni a far niente gli italiani si sono pentiti di questo pertanto beppe grillo che è una persona intelligente ha capito che mancano le idee i progetti la visione il merito la competenza i valori cioè manca tutto questo partito è un fallimento totale dice beppe grillo leggendo nella sua comunicazione c'è questo partito non c'è non esiste e travaglio il loro sponsor dice ma scusate qui c'è un c'è un 18 per cento 15 per cento parlano parlano i calenda parlano i renzi che hanno l'uno virgola qualcosa caro travaglio i calenda i renzi non hanno il reddito di cittadinanza lì c'è un dare per avere lo stato ti dà il reddito di cittadinanza tu sai che se i 5 stelle non sono più al governo il reddito te lo scordi pertanto per chi voteresti 5 stelle come mai sono fantastici perché perché sì ma dimmi una motivazione devo andare un attimo in posta poi ne riparliamo perché perché gli danno il reddito di cittadinanza è un dare per avere ovvio no quello che ha cercato di fare letta con i diciottenni vi do 10.000 euro ditelo ai vostri genitori ai vostri amici Enrico dice quelli ci hanno il reddito io do 10.000 ai diciottenni 10.000 diviso 12 mesi è più o meno un altro reddito di cittadinanza è un po' furbino quel ragazzo lì è è insomma caro il mio letta il reddito i 10.000 euro ai diciottenni mamma mia mamma mia ma come si fa a dire una roba del genere quindi Beppe Grillo ha capito che il movimento non esiste esiste solo nei voti nei voti per il reddito di cittadinanza e poi aggiunge vanno affrontate le cause eccetera e Conte mi dispiace non potrà risolverli questi problemi appena detti perché non ha né la visione politica né la capacità manageriale e poi aggiunge non ha esperienza di organizzazioni né capacità di innovazione io questo l'ho capito e spero che possiate capirlo anche voi io lo capisco che non sono un grillino l'ho capito perfettamente sono un giornalista di centrodestra e vedendo da fuori questa diatriba Grillo ha perfettamente ragione ha perfettamente capito che cos'è il movimento 5 stelle e ha perfettamente capito che c'era anche Giuseppe Conte che glielo voleva portare via per farne un partito a sua immagine somiglianza quindi non poteva fare nient'altro a tutto il mio appoggio Grillo Grillo poi aggiunge non possiamo lasciare che un movimento nato per diffondere la democrazia diretta e partecipata si trasformi in un partito unipersonale governato da uno statuto seicentesco partito unipersonale vuol dire il partito di Giuseppe non possiamo credere ai principi azzurri la deresponsabilizzazione delle persone con la delega un singolo nelle organizzazioni orizzontali è il principale motivo del loro fallimento però qua vorrei dissentire caro Grillo questa non è un'organizzazione orizzontale ma dove sta la base hai sempre deciso tu questa è una organizzazione verticistica dove c'è il padre padrone che decide e qui qui mi casca il Grillo e no 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 qui non è non è che Conte voleva fare un partito unipersonale in una organizzazione orizzontale Conte voleva fare un partito unidirezionale in un partito verticistico cioè voleva spodestare il vertice Grillo per diventare lui il vertice qui di partito orizzontale non ce n'è traccia e poi dice spiega ancora Grillo assumersi la responsabilità significa smettere di fare così smettere di voler creare l'illusione di una realtà diversa da quella attuale ed affrontarla insieme con i tempi e le modalità giuste come una famiglia come una comunità che impara dagli errori e si mette in gioco senza rincorrere falsi miti illusioni o principi azzurri che possono salvarla poi Grillo afferma che chiederà che si voti in rete non sullo statuto ma per l'elezione del comitato direttivo e questo lo andremo a vedere nel prossimo video grazie a tutti e buon proseguimento di giornata grazie a tutti